For the best live category of music to drink 2023 14th edition Raga, non potete niente, ho fatto comunque le scuole a Brescia, quindi adesso scherzo, non si può dire niente Ok, ci siamo? And the winner for the live prize, il miglior premio live, musica da bere, 2023 14esima edizione va a Tommy Scherzer Beh, la bottiglia fa piacere Sono musiche da bere, quindi passiamo la bottiglia di Amalone e la cantiglia tra bottigli d'Asi Grazie, grazie mille Buonasera, sono Don Michel È vero